Ciao ragazzi, come stai? Io sono Mario, il coach. Ci ritroviamo ancora oggi per la programmazione del giorno. Ti dico subito che sarà pesante, perché noi siamo in piena programmazione e quindi abbiamo fatto già gli step precedenti. Non so tu in che grado sei messo. Se hai qualsiasi domanda lo sai mi scrivi sotto. E sente se hai un riscaldamento lungo che ci preparerà bene al lavoro finale. Ti dico velocemente prima di chiudere che sotto trovi il gruppo Telegram dove puoi scaricare direttamente o agganciarti a questo gruppo la programmazione completa del giorno. Vieni che ci sono un sacco di novità solo su Telegram. Velocemente ti dico una grossa novità, oggi alle 14.00 se vai nella sezione già il coach è veloce puoi metterti in promemoria perché è in programmazione 9 addominali avanzati. Quindi occhio per te che sei bravo. Ci vediamo alla forza. Ciao! Ciao! Eccoci qui alla forza ragazzi. Avrei già visto più volte nella mia programmazione il dendlift ma proprio perché ha un'enorme importanza oltre che a quella estetica. Nel caso specifico i glutei. Questo è un esercizio che ti permette di migliorare un sacco anche le performance ma questo è un discorso lungo. Dai un'occhiata a questa sequenza da 6x1 fino a 9x1. L'idea è trovare un peso iniziale che ti consente di fare 6 ripetizioni e con questo peso portarlo fino a 9. Per qualsiasi domanda lo sai mi iscrivi sotto. Ci vediamo al workout. Ciao! Sei arrivato qui a workout perché sarà duro. E' un bell'inizio settimana. Per intenderci sono due stazioni A e B. Ogni stazione l'idea è lavorarci su 90 secondi nelle proprie possibilità. Questo diciamo è il limite che ho messo. Quindi 90 secondi sulla prima stazione ti fai il tuo piccolo recupero e passi alla seconda. Per 8 giri. Non facile. Ok movimenti. Noi ancora una volta ci abbiamo provato. Ti dico di iscriverti al canale o al massimo lascia un mi piace e noi ci vediamo domani. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.